Vai, ripartiamo? Perché voi state sul morbido, io no. Vai! No, capuzola! Tu sei abituato! Io sto sul duro! Attenzione! Sì, abituato! Attenzione, tre, due, uno, partiamo! Siamo qui alla seconda parte di Scienza del Lavoro, totalmente dedicata al Festival Internazionale del Filcorto Tulipani, se da nera un sorriso diverso. Ecco, questo video che voglio farvi vedere adesso non ha nulla a che fare con i cortometraggi che hanno partecipato negli vari anni a questo festival, a questo progetto, però secondo me questo è il vero sorriso diverso che stiamo provando un po' noi italiani. Ecco, parte subito questo film prodotto dalla Priavera Nazionale. Scusa, posso? Vieni, prego! Ma fa bene! Andre! Che sta a fare qua? Ma che sta a fare? Come stai? Tutto un po' sporco! Bene! Che sta a fare? Sto a lavorare! Come sta a lavorare? Scusa, non hai il ristorante tu? Eh, ce l'avevo! E mo? E mo faccio questo sul consiglio del commercialista, affitto, vertenze che ti fa il personale, amonnezza, ti dico quanto pagavo, ma fino a ho dovuto chiudere, il commercialista questo mi ha consigliato. Scusa, quanto guadagni? Da 30 a 50 euro al giorno, guarda, sono 1.2005 al mese pulite. Nette! pulite e senza tasse, senza bolli auto, assicurazioni, tutto quello che pagavo, non pago più niente, 1.500 puliti. Scusa, e tua moglie che ti dice? Mia moglie è contenta perché ne porta a tre tanti lei, sta dai parti dei prati, i parioli, lì a Mondezza un po' più delicata hanno messo lì a fare questa cosa. Scusa, ma tu non avevi due figli? Eh, ricordi. Che fanno? Che ti dico? Che fanno quello piccolo va a scuola, hanno preso subito un primo elementare, subito, diretto, senza graduatori, senza domande, senza dove abitare, residenze, e subito, preso diretto. E quello grande? Che ti dice? Il grande, mi dà tante di quelle soddisfazioni, a parte a scuola, perché va a scuola, hanno preso a lui pure così, gli hanno dato la tessera dell'autobus, che costa 500 euro l'anno, pensa, se sei studente, 250, però è sempre gratis. I libri, e poi fa dei piccoli reati, che tanto mi hanno detto i soccoperti da indulto, per cui può tranquillamente farli, non gli succede niente, e porta a casa 4-5 mila euro al mese puliti. Vabbè, fantastico. Fantastico sì. Scusa, pronto? Sì, sono io, mi dica. Sì, alle 19 e 30. Perfetto, confermo, grazie. Arrivederci. Mi ha dato affan' tatuaggio, e così sono più credibile, mi faccio una bella, che io non ce l'ho neanche con uno, perché sono sempre stato, certo, pulito, chiaro, antegerri, mi ha pagato sempre tutto, né tatuaggi, né droga, né alcol, e questo è il risultato. Vabbè, comunque come faccio un bel tatuaggio, devo dire. Sì, come faccio un bel teschio, un drago, ci sta tutto. Ma dimmi, ma dove abiti? Scusa un po', una casa non ce la devi tu? Eh, non ce l'ho più, adesso abito qui in un campo, di questi che ci stanno, tranquillo, televisione, acqua calda, ci abbiamo tutto. Cioè c'è tutto? Tutto, tutto a posto. Come fa? Sai che a volte ci stanno, ci sfollano, no? Sai polizia, carabinieri, vengono e fa, ti spiego, viene sempre il giorno prima una persona, un funzionario del comune, e ci avvisa che il giorno dopo, eh, e ci dicono già dove dobbiamo andare, pensa, infatti hai visto, è già tutto pronto, quando arriva la polizia non già sta piamuto, è tutto, è tutto a posto, guarda, credimi. Pensa che, mi hanno detto che, se mi comporto un po' male, non cose gladanti, un po' male, forse mi danno anche la casa popolare. Ma che sta a dire? Eh, vabbè, sono contentissimo. Ti saluto Andrè, scusa che ti ho... Ho fatto piacere Fabrizio. Ciao, alla prossima Fabrizio. se no arriva l'altro e mi trovo, ci accavalliamo, capito? Ciao Fabrizio. Ciao, Andrea, Andrea, molto bello. si affronta, vedi, con un sorriso diverso, però alla fine è una tematica vera che stiamo vivendo. È un discorso molto pesante. Si punta fortemente sulla burocrazia italiana che è fallimentare, che è ingiusta poi, totalmente giusta, quindi, di chi si comporta bene massacrato, chi, diciamo così, si comporta male, diciamo, riesce un po' a cavarsela. Ecco, Andrea, i tuoi concittadini, quindi gli italiani, ecco, quanto sorriso gli ha tolto? Beh, credo abbastanza, ma gli ha tolto la voglia di ridere, che questo invece dovrebbe rimanere dentro a tutti noi. io sono molto contento che si parla spesso di un sorriso diverso, che è la frase che ho voluto io per il festival, che si chiamava Tulipani di seta nera, perché io da vecchio comico sono ancora convinto che con un sorriso si riesca a vincere il pianto ancora, che si riescano, il sorriso rappresenta la voglia di fare, la voglia di andare avanti, la voglia di non arrendersi. Credo che poi gli italiani questo ce l'abbiano dentro, quindi io credo molto sul fatto che gli italiani prima o poi riusciranno ancora a sorridere, perché sono forti, molto più forti di quanto non si crede, nonostante facciano di tutto per togliercelo questo sorriso, io credo che poi noi alla fine riusciremo a ridere in faccia alla crisi. Senti Cristian, un giovane di talento, nel settore dello spettacolo e nel cinema, ha porte aperte o porte chiusi di fronte? Beh, molte porte in parte, è una domandaccia, perché poi non puoi dire mai fino in fondo no è un ambientino, perché poi ti ascoltano e ti dicono no ma è un ambiente bellissimo, secondo me debba, no le contraddizioni sono sempre tantissime, bisogna dirlo, c'è un'iniziativa che è stata lanciata qualche giorno fa, mi permetto di dire una piccola parolaccia, chiedo scusa ai telespettatori, chi si accinge a fare il nostro mestiere si trova a fare tante cose gratis, ad un certo punto però dicono sì freelance ok ma coglione no, nel senso che poi ad un certo punto il lavoro del giovane regista, del giovane, che poi molto spesso anche le strumentalizzazioni a livello pubblico sono tantissime, il personaggio televisivo guadagna un sacco di soldi, però quel personaggio televisivo è, diciamo così, a capo di una squadra di tecnici, artigiani, operai, scenografi, elettricisti, cioè è un esercito quello che sta dietro il lavoro della comunicazione, quindi secondo me bisognerebbe rivedere le posizioni di tutti, bisognerebbe forse limare un po' i grandi compensi per favorire anche l'inserimento delle nuove idee, se noi non investiamo in prodotti giovani, soprattutto nei giovani, non c'è il ricambio generazionale, ci troviamo ancora con delle prime serate dove noi siamo più portati davvero a stare tutto il giorno su Facebook e a condividere delle cose un pochettino anche frivole e stupide, piuttosto che magari approfittare di un'occasione culturale, io per esempio ho sempre parlato di libri, non mi ha mai portato una grande popolarità, però so di aver fatto qualcosa di carico. No, ma poi secondo me a parte che loro li conoscono e sono tutti così, tante porte verranno chiuse, ma bisogna avere la testa dura, ma così dura da riuscire a sfondare. Una rieta, sì. E poi sì, e poi vedi, purtroppo una cosa, tu mi hai fatto pensare, adesso come adesso, quando fai una cosa che viene fuori il tuo talento, e dici, cavolo, sono contento perché finalmente si sono accorti che so fare questo, però poi ti viene il dubbio, ma non è che poi il talento non serve a niente, oppure adesso che sono accorti che ho talento non gliene frega più niente di me, quindi è un po' la paura dei giovani, cioè il fatto che il talento non paghi più, però il talento forse in certi casi non paga più, ma io sono convinto che a lungo andare il talento viene fuori, il talento intanto paga te stesso, quando tu sai che hai un tuo talento e tu credi per primo in te stesso, poi come si dice, la ruota gira, e credo che prima o poi vengano fuori anche altri. La cosa particolare però che bisogna sottolineare è che ci sono delle persone che poi fondamentalmente ti danno così anche un po' l'incentivo a continuare, io sono sicuro che questo pensiero lo condivido con Metis, quando tu incontri un grande personaggio che poi ti incoraggia, quella è una grande fortuna, no? E noi in questa circostanza roncato veramente. Io faccio l'incoraggiatore. Ma l'incoraggiatore freelance. Mi rivendo una battuta non mia che però secondo me serve molto a cambiare il concetto, ci sono tanti escamotaggi in Italia che aiutano ad aprire le porte ma non fanno salire le scale. E quindi direi che... Poi probabilmente Andrea incoraggia e questo io lo credo perché lo conosco da un po' e lui possiede una sensibilità che è rara anche se secondo me indispensabile nel mondo, però non è così. e lui incoraggia perché forte di una carriera che ha avuto ha conosciuto cosa non voleva essere vedendoselo intorno. Cioè e soprattutto cioè parlando con lui quante volte un mestiere non ha la dignità del mestiere. Noi per esempio facciamo un mestiere che non è riconosciuto quasi come una professione. Io ti racconto di me ma figurati ho la metà della metà dell'esperienza che hai di te ma quante volte anche a te sarà capitato io mi ricordo quando andavo in giro col trio dopo il teatro dopo serate dopo la registrazione finivi in un ristorante o in una pizzeria e c'era sempre al tavolo qualcuno che ti diceva oh prendete lui è bravissimo oh non sai come racconta le barzellette o non sai come quindi non c'è una professionalità non ha una professionalità riconosciuta per un architetto esiste un albo per un medico esiste noi siamo gente sempre improvvisata a me solo da pochi anni dopo tanti anni che faccio sto lavoro quando dicono vabbè lei che cosa fa l'attore ormai lo sanno però fino a pochi anni fa dicevi che fa l'attore sì ma di professione sì di lavoro certo gli erano sempre certo ma lo capisco allora mi è risfuggita di nuovo la trasmissione di mano Metis non solamente il cartone animato per noi diciamo così un punto uno sguardo verso i bambini grazie al Cifa Ollus che è la più grande organizzazione italiana di adozioni internazionali noi abbiamo inserito proprio tra i premi di questo festival un premio speciale che è il valore dell'infanzia prima si chiamava in un altro modo quindi il valore dell'infanzia come percorso di naturalezza ora è proprio sorriso nell'infanzia tra l'altro loro sono molto seri io che li ho conosciuti bene tendo a sottolineare perché molte di questi Ollus di queste società quando si tratta di bambini bisogna andare sempre con i piedi di piombo loro sono anni che fanno che si occupano di queste cose e danno una serietà veramente molto importante quando si parla di bambini inserendo questo premio il festival diciamo così impone ai registi di pensare anche a questo come contenuto vediamo un po' il premiato dell'anno scorso non mancano mai premio speciale infanzia come sentiero di naturalezza a Pizzangrillo di Marco Gianfreda Pizzangrillo di Marco Gianfreda ritira il premio il regista Marco Gianfreda ciao Marco ben arrivato eccoci qua allora Marco dove hai trovato il tuo meraviglioso protagonista il protagonista del suo corte è un bambino eccezionale che riesce attraverso i suoi occhi a parlare della storia di un nonno ce la vuoi raccontare tu brevemente? dove ho trovato il ragazzino mi hai chiesto? dove hai trovato il ragazzino e come è nata l'idea? allora l'idea viene da uno spunto autobiografico perché io avevo proprio un nonno che era una cosa sola con quella petta che avete visto nel corto e questo nonno aveva questa vellità assurda di buttarsi in un fosso con tutta l'ape se non che niente quindi io proprio lo vedevo da ragazzino che partiva con mia nonna attaccata dietro che cercava di fermarlo ed era una scena bizzarra però drammatica nello stesso tempo poi mia nonna non si è mai buttato però si è cappottato decine di volte con l'ape è rimasto in mezzo agli incendi due o tre volte perché c'aveva un orticello dava fuoco alle foglie rimaneva avvampato in mezzo e cascato da un campanile da giovane quindi era un personaggio un po' così quindi questo è lo spunto della storia poi chiaramente sembra superman però per come lo racconti si era tutto storto perché a furia di cadere di spezzarsi eccetera questo è lo spunto della storia quindi insomma ho colto questa occasione per chiedere a mio nonno quella cosa che non gli ho chiesto quando avevo dieci anni ovvero dove vai con l'ape oggi cioè lui chiaramente non glielo ho chiesto e poi la storia nel finale invece è un finale ovviamente lieve ecco questo è lo spunto complimenti a te veramente al ragazzo protagonista che è stato meraviglioso nella sua interpretazione eccola qui consegniamo il premio la motivazione i fiori non per lui ma per Liliana i fiori sono per Liliana grazie davvero per essere stati con noi grazie davvero complimenti grazie grazie Metis è facile o difficile produrre dei contenuti che ci sappiano spiegare realmente chi sono i nostri bambini beh lo trovo difficilissimo ci vuole tantissima attenzione io collaboro con non so Moige Telefono Azzurro e vi assicuro che su ogni parola ci sono riflessioni e riflessioni su ogni veramente scelta di un verbo anche tempo verbale veramente ci facciamo dei giusti problemi a riguardo Pizzangrillo mi piace molto perché a parte l'autobiografia che ci ha colpito e che non non sapevo forse insomma che i riferimenti fossero così autobiografici lui secondo me ha dato un forte messaggio perché non soltanto è riuscito ovviamente a parlare di un'infanzia particolare quella della periferia di Roma ma è riuscito a parlare della forza che ha un bambino nell'attraversare e nel rompere una barriera e a tirar fuori molto spesso come capita un genitore un nonno da uno stato avanzato di depressione quindi l'intuito che riescono ad avere i bambini nel capire un problema e nel risolverlo in un battibaleno perché molte volte un bambino con un sorriso con una mano riesce a tirarti fuori da problemi che a noi tutti sembrano immensi insuperabili e loro riescono a risolverli così quindi sì grandissima attenzione devo dirti quello che stavo per dire prima del servizio che grazie a Dio non sono mai mancati nel festival corti dedicati a prescindere dal fatto che comunque molti registi fanno dei corti appositamente per il festival Turipani di Sita Nera lo sottolineiamo perché ormai sarà l'importanza del festival o comunque è successo ma creano dei prodotti appositamente dedicati al festival ci sono sempre un buon numero di corti dedicati all'infanzia che sono sempre di livello particolarmente alto e ci lasciano in dubbio sulla scelta della selezione del vincitore e poi la cosa particolare è che il regista di Pizzangrillo Gianfreda oltre ad essere un bravo regista emergente adesso vedi le diversità come ciascuno grazie alle nuove tecnologie o anche grazie ai nuovi spazi televisivi riesce a mettere in campo tutti i suoi talenti e è uno dei protagonisti di Masterchef quindi ha messo da parte il suo ha messo da parte il suo diciamo così la sua attitudine da regista per dire adesso cerco di fare il regista in cucina e quindi ha affrontato questa nuova esperienza l'ho fatto smettere io poi il festival porta molto buono perché lei l'anno scorso è stata cattiva mi stava riprendendo durante questo è vero abbiamo visto molti protagonisti e soprattutto premiati quindi devo dire la verità che è vero che dici che il festival porta bene ma è anche vero che la giuria ecco la prima la selezione artistica che guida il presidente Roncato insieme al accordiamento artistico poi la giuria quando sceglie sceglie bene perché in realtà chi viene premiato poi fa una carriera quindi vuol dire che in realtà c'è capacità anche perché alla fine quelli che arrivano nella rosa finale sono veramente tutti belli quindi c'è il premiato quello che arriva primo secondo ma gli altri sappiano che comunque hanno fatto degli ottimi progetti il merito è anche di cinema che noi dobbiamo ringraziare che è il partner media di questo festival ormai da 4 anni il vicepresidente di giuria Carlo Brancaleoni che affianca Sara Iannone che è poi il presidente di giuria in realtà aggiunge quel tocco di assoluta selezione di professionalità Carlo Brancaleoni è quello che decide per Rai Cinema quali prodotti sono validi per produrre quindi per essere finanziati dal sistema cinema Rai e di conseguenza selezionare allo stesso tempo dei cortometraggi per assegnargli dei premi ecco le forche caudine quindi i metodi di selezione sono proprio gli stessi un altro partner fondamentale istituzionale e anche tecnico del festival è l'INAIL l'istituto nazionale proprio per la sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'INAIL che è parte istituzionale che quindi segue che anche questo ha ispirato sempre un premio cioè quello del valore del lavoro il valore della sicurezza sul lavoro e poi la Travis Group anche questo è uno sponsor del festival che è il più grande istituto di vigilanza che è presente sul territorio italiano che si occupa realmente della sicurezza delle cose e delle persone proprio per questo c'è un premio ispirato anche questi contenuti sono quelli richiesti ai nostri registi il valore della sicurezza sul lavoro un racconto delicato e intimo ambientato a tre case nel 1935 l'apprendistato della tredicenne bianca panarese come operaia tabacchina e il suo amore per il fratello Pietro ucciso durante le proteste del 15 maggio contro il trasferimento del consorzio a Kite rendono questa storia intensa è capace di sottolineare il valore della sicurezza sui posti di lavoro premio sezione speciale valore della sicurezza sul lavoro al documentario oro verde di Pierluigi Ferrandini oro verde di Pierluigi Ferrandini e soprattutto la sicurezza è un altro elemento importante perché la signora Sordi è qui in rappresentanza dell'azienda di famiglia la sicurezza di questa sera è garantita proprio dagli uomini del Travis Group che ringraziamo per la sicurezza